L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo richiede un impegno da parte di tutti noi. Anche la BCC Bucino Comuni Cilentani fa la sua parte, facciamola insieme. Per arginare la diffusione del coronavirus è importante evitare i contatti diretti, distanti ma vicini. Da oggi puoi prenotare online su www.bccbcc.it una videoconsulenza, l'innovativo servizio che ti consente di dialogare con la tua banca ed evitare di recarti in filiale. Scegli la tua filiale, seleziona la data e l'orario a te più utili e prenota. Un operatore ti aggiornerà su tutte le misure messe in campo dalla banca. Recati in banca solo su appuntamento e segui le nuove disposizioni su www.bccbcc.it. Usa Relax Banking per l'operatività sul tuo conto corrente H24. Ci siamo sempre, distanti ma vicini. Io resto a casa.